Ciao, sono Florinda e lavoro nel team dell'Operation Delivery Center di Miglia, brand del gruppo ADECO che si occupa di formazione. C'è una parola ricorrente durante tutto il mio percorso lavorativo che è accoglienza. Accoglienza che mi è stata riservata già il primo giorno in cui sono arrivata in azienda quando ho trovato sulla scrivania tutta la tecnologia assistiva necessaria, in quanto sono non vedente, per poter svolgere la mia attività. Penso alla parola accoglienza che mi è stata riservata da tutti i miei colleghi quando sono rientrata dalle Paralimpiadi di Londra del 2012, dove ho partecipato nel canottaggio. Hanno organizzato a mia insaputa una giornata proprio nel centro federale dove mi allenavo sul DragonBot. Accoglienza che è stata riservata anche a Gray, il mio cane guida, mi accompagna ovunque, viene con me anche in ufficio e è diventato ormai la mascotte di tutto il nostro gruppo. Ho scelto questa parola, accoglienza, perché ha un significato per me molto profondo, molto intenso. Laddove c'è accoglienza, per me c'è luce. Ciao, sono Florinda e questa è la mia Astori.